Aiutatemi a trovarla, è questo l'appello che Roberto Faragalli, commercialista a Teramano, ha lanciato su Facebook per cercare la moglie Tiziana Balducci, 54enne, impiegata di banca alla BNL Teramana, che non si trova da lunedì sera da quando è sparita, a bordo della sua lancia Ypsilon di colore bianco, targata ER510CT. La donna è scomparsa con il suo telefono cellulare, che però risulta spento e quindi difficile da localizzare. I familiari, che si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva a chi l'ha visto, hanno sporto denuncia alla squadra mobile della polizia di Teramo. Gli investigatori non escludono alcune ipotesi, anche se sono convinti che si tratti di un allontanamento volontario della donna. Familiari e forze dell'ordine, assieme ad amici e parenti, da ore non smettono di cercarla battendo tutta la città di Teramo e le frazioni. Si cerca anche solo il minimo indizio che possa aiutare a capire che fine abbia fatto la donna. La polizia ha diffuso le foto di Tiziana Balducci e in queste ore gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza di numerose telecamere, a cominciare da quelle dei caselli autostradali, per capire se la macchina guidata dalla donna abbia preso qualche direzione ben precisa. Dai racconti del marito, Tiziana Balducci lunedì mattina è andata al lavoro, poi è tornata a casa ed è stata con la famiglia. Nel suo atteggiamento non ci sarebbe stato nulla che almeno esternamente potesse far presagire quello che poi è successo. Nel tardo pomeriggio la donna è uscita dicendo di dover fare delle commissioni, ma i familiari, non vedendola tornare per cena, hanno cominciato a chiamarla sul telefono cellulare senza però ottenere risposta. Poi la decisione di andare in questura per denunciare la scomparsa dell'impiegata. La foto e altre informazioni sono sul profilo Facebook del marito e di altri familiari che la cercano ormai da 48 ore.